Meglio dello scorso anno, peggio del primo semestre. L'indagine congiunturale di Confindustria Lecco Sondrio e Confindustria Como sul secondo semestre 2022 evidenzia valori in chiaroscuro. Rispetto ai primi mesi dell'anno, domanda produzione e fatturato sono in leggero calo, mentre le variazioni sono positive se confrontate con lo stesso periodo dell'anno precedente. Negli ultimi sei mesi del 2022, evidenzia Plinio Agostoni, presidente di Confindustria Lecco Sondrio, lo scenario territoriale si mostra ancora articolato con alcuni indicatori di rallentamento, anche se in modo contenuto. Le dinamiche rilevate, prosegue, sono in linea con il sentiment dei colleghi imprenditori emersi nel semestre, confermato anche dai dati nazionali, e sembrerebbero indicare un assestamento della fase di crescita più che una decelerazione vera e propria, anche tenendo conto delle note difficoltà che hanno interessato la prima metà dell'anno. Le criticità sul versante dell'approvvigionamento delle materie, prosegue Agostoni, i problemi lungo le catene di rifornimento internazionali, i costi elevati dell'energia elettrica e del gas, sono infatti tutt'altro che superati. Tuttavia, conclude Plinio Agostoni, in questo panorama possiamo evidenziare il dato incoraggiante delle aspettative formulate per il semestre in corso, con segno più per tutti gli indicatori, così come resta complessivamente positivo il giudizio sull'andamento generale del sistema produttivo territoriale nel 2022. Anche sul versante dell'occupazione si confermano i segnali confortanti sino ad ora rilevati, evidenzia il direttore dell'associazione Giulio Sirtori, con un trend che continua a mantenersi stabile quando non indica una propensione all'aumento, tanto che, conclude Sirtori, al di là delle difficoltà legate al contesto economico generale, il disallineamento fra le necessità in termini di competenze evidenziate dalle imprese e la loro disponibilità sul mercato del lavoro resta il nodo più importante da risolvere per il sistema produttivo territoriale.